Sarebbe bello poter tornare indietro nel tempo. Il problema è... Tornati entro. Torno dietro. Quindi posso tornare indietro nel tempo. Che ce fai solo con 60 secondi? Se avessi puntato 1000 euro un minuto primo, ne prendevo 80.000. Go, Florenzi! Go! Resi! Resi! Florenzi! Go! Venuto. Ma che cazzo vedi quando hai fatto? Ma dove hai questi cazzo nei caviglie? Questa è la moda giovane, la chiamano moda hipster. Ah. Ha così, bitch, ha così. Chi ha il tuo gioielliere, bitch? È peggiorato tu, fratello. Mazza che pippa. Vedi quando divento chef? Voglio diventare cattivo, ma trattare i mali come quelli della televisione. Sta a sentire. Ah, Singh! Hai pulito quel cazzo di padelle? Oh, Ascanio non rompe palle? Sapete qual è il primo lungometraggio della storia? The Story of the Kelly Gang, del 1906, con i suoi 60 minuti di durata e 1350 metri di pellicola. Il film era la biografia del celebre bandito Ned Kelly. Invece l'anno migliore per il cinema italiano, sapete qual è? Si va indietro. Il 1913, con più di 800 film prodotti distribuiti. Le cose sono un po' cambiate, sì. Vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, potete seguirci anche lì e trovate il link qui sotto nell'info box. Ciao da Valeria.